Siamo contro Capitano Ma bieco sono gli italiani oggi Ma che è Ci stava incazzando come una maiala Tutti sti italiani Tutti sti italiani che giocano il sabato sera Ragazzi Vai col cool Grazie Chad Fieric Molto gentile Grazie al supporto del sab E buon anniversario Magari con la nuova season Visto che usciano tutti i nuovi oggetti Ci sarà un certo hype al riguardo Ci saranno Eventuali nuovi trollpi da portare Lo farò volentieri Fa freddo che non si esce stasera Attenzione O comunque Terza partita di stasera Terzo invade Non per dire Primo game Abbiamo invaso noi Bello rivederti sull'on Che poi Che poi I call che fanno i miei alleati Io non ho mai fatto nessuna chiamata Primo game invade il mio team Secondo game E facciamo una kill E muore il support Uno per uno Secondo game Invade il team nemico E muore il loro support E E questo è il terzo game Invadiamo E si fa una kill Sonicare È incredibile la quantità Di Kill Grazie Alex del sub Molto gentile Signor Alex Molto Molto gentile Il capitano Stato di W Ragazzi Perché vuole essere Funzione full HP No no Te la prendi bro Te la prendi E come Tuk 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 Tuk! Graspettino! Che campione ingiusto il Sion. Oh, shit. Ok. Ok. E si parte! Ah, lui c'ha l'ignite, quindi in realtà è buonissimo. Lui c'ha l'ignite, quindi è buonissimo. C'è va bene che mi abbia ucciso, eh. Così faccio capire quanto è ingiusto questo campione. Faccio capire quanto è ingiusto Sion come champion. Oh, cazzo, ma... Che palla. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ok. 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 Ah ma questo è il mio alleato Vabbè Oh cazzo No Minion Va bene Allora Stattiamo con questa E via Quanto è forte il vet cazzo Atrox è easy a giocare contro Sion lo so Atrox è gold Sempre la storia dei rank un po' A puttane Ma va benissimo il capitano È che il mio jungler ha deciso di regalargli una kill e il double buff Una decisione non proprio felicissima Devo essere onesto Vabbè Immagino faccia parte del pacchetto di giocare in pronto Quanto è un po' Quanto è un po' Fregato Perfetto Lui li è ingaggiato convinto che io Sarei stato attirato Al centro della catena E invece E invece E invece ragazzi Tuk 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 Quanto mi manca ancora? Palle Allora ti avrei messo due top player con 700 Equilibrata e Gmarco Ma fa ridere perché è capitato anche che Si sia Una volta c'è stato io a far sempre esempio quella diana Platino 4 contro Dall'altro team va contro Un support iron 1 1300 lp di differenza Non smarf nessuna di due E bro ma dove stai mirando? Dove stai mirando brother? Ma ci sei o ci fai? Dove stai mirando? Amore mio No 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 Grazie a tutti. Tu... what? Perché non ho fatto danno c'era al minion? Forse perché il minion non l'ha attaccata. Ma basta la presenza al minion per far fare più danno alle torri. Oh. Cioè se prendevo quella platea avevo il Sunfire gigante adesso. Non ho mica capito ragazzi perché non è successo. Oh. Non capisco sinceramente. Non capisco sinceramente. Non capisco sinceramente. Ora c'ho la Sunfire Ok Ah perché in passato Solo il 40% di attacco Ecco perché Pensavo non ce l'ho Cioè non ce l'ho pensata a sta cosa C'è scritto? No Ha interrotto il recall Oh god What? Come non ho preso? E via Il capitano Sparisce Figlio di Perché dovrei insultarlo? Non se lo merita Cioè alla fine non mi ha fatto niente Non mi ha fatto niente Non mette ad essere insultato, poverino Ok, bec Guarda, mi dirvi più Essendo questo Ah sì Però gioca Atrox Vabbè dai Ma non è neanche un campione così Cioè Comunque serve la skill Ovvio è Cioè se lo giocare bene Diventa sbroccato Però Mi è sicuro che non è facile Cioè contro skill è facile Però Overall devi comunque saperti muovere Ultima Riga della passiva Ah c'è scritto qua Ok, ok Sì Sì È guardato? Può essere. Ma cos'è? Tutto guardato! Il capitano non è proprio precisissimo, devo dire, con le spell. Non è proprio precisissimo il capitano, vabbè. Non viene poi a fare una colpa alla fine. Comunque, ormai gli iron non esistono. Cioè, i bronzi, comunque, questo qua è gold, voglio dire. E gioca da gold. I piedi poi li ha, sì, sì, ma il concetto, cioè, io, boh, io gioco in iron. È normale che io non faccio più troll pick particolarmente spicy, cioè, come fai a giocare roba spicy con gente così? Giochiamo il nostro Sion, che alla fine è un Sion normalissimo, alla fine dei... ... Grazie a tutti. Il capitano sta impazzendo! Il capitano sta andando giù di testa! Aspetto questi 35 gold e ti... Oh, questo renderà i fight più worth! Almeno se vuoi traddare mi prendo della vita infinita! E tanti saluti! Finchia, 7-1 Zed! Mestead! Oh... Donk! No, no, signor capitano! Venga qua! What? Vai un po' più veloce! Ma che è? Cazzo... Jungle beef... Comunque il concetto di Sion è che... Ci puoi anche morire un miliardo di volte! Tu comunque la top... Bene o male la vinci, capito? Guardate il farm! Ma c'è? Ma perché sono tutti... Ma che sta succedendo qui? Ma potete andare nella vostra lane! Ma che è sto casino? Dicano un po' più inizio perché tu sei il colonnello! Porca tre, è vero! No, non si scrive... Non si BM! Il colonnello! Mi inculerò questi! Che poi Atrox è un matchup di merda per me! Perché io devo caricare la Q stando fermo! Colui mi tirà un qualsiasi knock-up con la sua Q ed è finita! Quindi... È un matchup veramente merdoso! Però... A noi non frega un cazzo! Riccarretto! Atrox si vede jungle diff proprio meme! Vabbè, in dubbio... Vabbè, Jax, mi incriva! Che tragedia, Jax! Diciamo che allo stesso tempo il mio jungler gli ha regalato una kill con tanto di double buff in early game che, insomma, mi ha creato quant... Che fastidio! Mi hai distratto, sì! E' un flanco, spedio! E' un flanco, funzionale! Quante robe stanno tirando, ragazzi! Quante... Quante summon erano tirato, ragazzi! Che roba era! Quante... Quante cose sono partite! C'è lì, se non avesse avuto summon era triple kill per me! Grazie, Zodra, San! Grazie mille del sub! Grazie mille del sub! Grazie mille! Tuk! Ecco, tre autoattacchi! Facili, facili! Porta a casa la pagnotta anche oggi! Però ne hai queste qui! I hope! Le... Miss Fortune spera! Chat, secondo voi cosa sta sperando Miss Fortune? Grande, Zodra, sei il benvenuto! Ma guarda che è tornato il capitano! Capitano, lei deve affondare con la sua nave, ancora non ha capito! Lei ormai è affondato, è cibo per i pesci! Vabbè, appunto... Affondato il capitano! Capitano affondato! Ma Sanfer fa troppo danno su Sion! Perché scala in base alla vita e Sion prende un quantitivo di vita devastante! Che meraviglia! Bel bagnocino, grazie! Mezz'ora, ok! Chissà cosa è successo nel resto del game, ragazzi! Cioè, la cosa di giocare i top lane spesso l'intero è che non ti rendi conto di ste cose! Atrox top damage! Abbiamo talmente tanto combattuto i Atrox che ci siamo... Bustati la...